Ciao a tutti, folettini e folettine, ritornati in questa nuovissima storia. Ma chi è che mi chiama? Ma è il mio amico mentale. Il mio cellulare, rispondi. Pronto? Ciao Mary tesoro, ti va di venire a prendere un caffè a casa mia? Ciao Andrea, certo, però vengo solo se il caffè lo faccio io. Ok tesoro, ti aspetto. Uh, eccoti. Vado subito a preparare il caffè. Eccomi. Tieni. Mary ma lo sai a cosa stavo pensando? Dimmi Andrea. Che ne pensi se inventassimo una canzone di Follettina Creation insieme? Sì, sarebbe bellissimo. Come te l'ammagineresti? Ehm, io... Ehm, io... Follettina. 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 Follettina piccolina, la regina di YouTube. Follettina, bambolina, vieni qui con me anche tu. Sono molto brava a preparare il caffè. Sono molto brava a preparare il caffè, il mio cuore dolce come il frappè. Follettina. Ehm, io... Follettina. 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 Follettina Follettina Follettina